Abbiamo davanti due importanti sfide, una è quella della composizione del nuovo gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle della 18esima legislatura. Prima di questo oggi presentiamo i 20 punti per la qualità della vita degli italiani, che sono il nostro programma per andare al governo di questo Paese. E grazie a un grande megafono di questo Movimento, adesso siamo in tanti a poter parlare, a poter radunare tante persone, ma c'è stato un tempo in cui solo una persona riusciva a radunarci tutti, ed era ed è Beppe Grillo, che sarà sempre una parte fondamentale del Movimento 5 Stelle. Le nuove tecnologie applicate al lavoro permetteranno all'uomo di produrre senza più fatica, reddito di cittadinanza, rimettiamo l'Italia al lavoro. Noi siamo gli unici qui che non vogliono dare soldi alle persone senza far nulla. Noi non daremo soldi a chi vuole starsene sul divano, non daremo soldi a chi non vuole far nulla. Noi chiediamo con reddito di cittadinanza un percorso di formazione lavoro e riqualificazione lavoro, devi passare la tua giornata a studiare per le professioni che stanno arrivando. C'è anche la pensione di cittadinanza, è una pensione di cittadinanza perché uno Stato in cui si dice che la soglia di povertà è 780 euro, non è uno Stato civile se dà pensioni minime sotto la soglia dei 780 euro. Questo è il nostro pacchetto fiscale, i punti fondamentali sono sicuramente la riduzione delle aliquote IRPEF, soprattutto per il ceto medio, una no tax area fino a 10.000 euro, aumentiamo la soglia della no tax area, una manovra shock per le piccole e medie imprese con la riduzione del cuneo fiscale. Se noi proponiamo una riduzione del cuneo fiscale, una riduzione drastica dell'IRAP è perché sappiamo che se vogliamo salvare il nostro made in Italy dobbiamo renderlo competitivo. L'IRAP è una battaglia che portiamo avanti da 5 anni, eliminiamo i finanziamenti a pioggia che piovano sulle piccole imprese, che vanno sempre agli stessi e con quei soldi diamo la possibilità di abolire l'IRAP alle micro imprese, così tutte avranno una tassa in meno e tutte potranno competere sul mercato e vedremo chi sarà il migliore, quali saranno i migliori. Attenzione a chi deve andare in pensione, siamo rimasti gli unici, tutti volevano abolire la legge Fornero, Salvini si è venduto per qualche poltrona a Berlusconi e ha ritrattato, quelli che la potevano abolire al governo non l'hanno abolita, perché? Perché l'avevano votata. Guardate che questa è una campagna elettorale veramente singolare, tutti ci vengono a dire che vogliono abolire le leggi che hanno già votato. Questo sarà lo slogan della nostra campagna elettorale, partecipa, scegli, cambia, è la nostra storia. E da qui, da questo evento, io voglio lanciare una sfida a tutte le forze politiche italiane. Diteci perché non siete disponibili a convergere su questi 20 punti, diteci perché non siete d'accordo con i nostri 20 punti per la qualità della vita degli italiani. Perché ve lo chiederemo la sera del 4 marzo, ve lo chiederemo con un appello pubblico. La domanda dei prossimi mesi sarà, ma i soldi dove li prendete per fare tutto questo? Una parte delle coperture sono già indicate nei 20 punti, ma pubblicheremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, le coperture dettagliate del nostro programma. Così poi speriamo, lo dico con tutta la calma del caso, che la stampa vada a chiedere anche a chi sta promettendo le pensioni a 1000 euro, il taglio, dove prende i soldi e dove individua le coperture.